Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati con un nuovo episodio delle Gigi News Infatti nella giornata di ieri c'è stato un aggiornamento, la patch 16.50 che è stata sostanzialmente l'ultima patch prima della prossima nuova stagione Ovvero la stagione 7 che dovrebbe uscire intorno all'8 giugno se non sbaglio È stata una patch molto deludente, ne andremo a parlare un pochino nel video di oggi Ma fortunatamente abbiamo un paio di notizie che potrebbero essere interessanti Quindi seguite il video fino alla fine Lasciando un bel mi piace per supportare le Gigi News arriviamo almeno a 5000 like Vi ricordo ovviamente di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite per supportarmi e per supportare le Gigi News Quindi mi raccomando ragazzuoli controllate in basso a destra e ci si è scritto supporto a un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni 14 giorni il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a vero di cuore a chi lo farà Ovviamente ragazzuoli iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Controllate di essere iscritti se non lo siete iscrivetevi E vediamo un po' quello che riusciamo a combinare in questo nuovo video delle Gigi News Ma con un taglio del genere qualcuno potrebbe anche venirci alle nostre casettine di fiducia Però regà dai direi comunque di provarci Prima di iniziare a parlare delle notizie di quest'oggi regà Volevo subito dirvi che anche domani uscirà probabilmente un episodio delle Gigi News Perché sicuramente non riuscirò a trattarle tutte in questo singolo episodio Anche perché anche se è stata una patch decisamente deludente Più di qualche notizia che merita un po' di chiacchierate diciamo che è uscita dai Quindi insomma ragà video di oggi mi raccomando guardatelo fino alla fine E seguite anche quello di domani perché sarà un po' il continuo di quello di oggi Perché continuiamo con altre news Comunque dai alla fine della fiera sembra che non ci stia venendo nessuno qui alle nostre casettine di fiducia Quindi meglio così Allora ragazzi abbiamo prima citato la stagione 7 che ormai è alle porte E non posso non iniziare questo video parlandovi del prossimo starter pack Come sapete ad ogni stagione c'è uno starter pack Quindi una skin che esce con un intero pack appunto ad ogni season Che costerà in soldi e sarà molto conveniente e avrà anche dei V-Bucks Questa appunto sarà quella della prossima stagione Non è niente di che però non è neanche male dai Solitamente le skin dei starter pack sono abbastanza semplici Quindi niente di speciale Però sono anche quelle che sono abbastanza carine e soprattutto giocabili Ah sì poi comunque nella patch di ieri hanno aggiunto le pistole doppie Ma in realtà non ne volevo neanche parlare nel video di oggi Che boh così Cioè sono state aggiunte completamente a caso ma va bene Poi a proposito di starter pack Quest'altro invece sarà lo starter pack di salva al mondo Lo sapete che ormai quasi ogni mese sta uscendo una skin su salva al mondo Sempre sotto forma di pack E sono poi skin che potete utilizzare anche nella battaglia reale Quindi su Fortnite normale Io solitamente me li shoppo anche questo qui abbastanza particolare Soprattutto ci sono sempre dei robottini in salva al mondo Non mi chiedete il perché Sono quasi sempre robot le skin di salva al mondo Poi dato che questa settimana è uscita Rubino Oscuro Che è stata una skin esclusiva per chi gioca da PC Partiamo subito con una news per quanto riguarda le skin esclusive da Play Perché infatti questa qui ragazzi sarà la prossima skin esclusiva da Play Quasi sicuramente ma non ve lo do per certo Si otterrà gratuitamente con il Plus Quindi con il PlayStation Plus Quasi come ogni skin esclusiva da Play Appunto si otterrà questa skin col suo pack Quindi penso che poi anche questa avrà altre grobe Poi nei file di gioco è stata trovata questa skin Che è palesemente il maschio dell'assassina della Cuglia Quindi è l'assassino della Cuglia Il nome mi fa ridere Se dovesse chiamarsi l'assassino della Cuglia Non mi chiedete il perché ma fa ridere Non credo avrà niente a che fare con la storia Nel senso sarà messo semplicemente come skin E quindi non penso che faranno un boss o qualcosa del genere Neanche per la prossima stagione E poi c'è questa nuova emote Che sembra un emote di una minicar Dove sostanzialmente andrete a guidare una macchina Devo dirvi la verità Non è male Non sembra male Diciamo così Allora io adesso mi sono fatto gli scildini Ma avrei potuto anche risparmiarmeli Perché spero che qui giù non ci sia venuto nessuno E potevo fullarmi con i vari lotti Però io nel dubbio per non rischiarmela Me li so fatti Poi ragazzuoli questi qua sono tutti i bundle aggiornati Quindi tutti i vecchi bundle Che però magari hanno aggiornato qualcosina Alcuni di questi non sono ancora usciti Ma sono stati comunque aggiornati Perché comunque dovete sapere ragazzi Che ogni tanto le skin e i bundle Vengono aggiunti nei file di gioco mesi e mesi prima Che poi effettivamente escano E quindi evidentemente fortnite Alcuni di questi pack Prima di farli uscire L'ha voluto modificare nuovamente È molto comune come cosa ragazzi E tra le varie stringhe Regà è uscita fuori questa qui Torna dopo più di mille giorni O comunque torna dopo mille giorni Ha aperto un po' il caos Tutta questa storia qui Perché si stava iniziando un attimino A capire cosa potesse essere Molti hanno pensato subito Immediatamente alla renegade Ma quasi sicuramente non è la renegade Perché la renegade non esce da Praticamente 1200 giorni quasi Cioè molto di più rispetto ai mille giorni E quindi si sono iniziati a fare un po' di teorie Tra le varie cose che non escono da tanto tempo Quindi da circa mille giorni C'è il piccone di Dynamo Cioè la skin femminile Ultimamente è uscita anche abbastanza spesso Però tutto il pack con la skin anche maschile No, però la skin maschile Non esce da circa 800 giorni Mentre il piccone è proprio da circa mille giorni Quindi uno degli iniziati principali È proprio questo piccone qui Della Dynamo Che si chiama Peel Driver O Peeledriver Non so bene come si pronunci E l'altra skin O meglio l'altro oggetto Che è una skin Che è sulla lista degli indiziati È proprio Acivat ragazzi Questa qui che è la skin Più rara attualmente del gioco Anche più rara della renegade Ma semplicemente perché Non è mai stata shoppata quasi da nessuno Se non da me Perché raga la rarità di una skin Non la determina il tempo Da quanto non esce nello shop Ma quante persone effettivamente la hanno E sta skin Acivat è talmente brutta Che in pochissimi l'abbiamo shoppata E quindi di conseguenza è una delle skin Se non proprio la skin più rara del gioco È assurda come cosa però È così E quindi essendo questi due gli oggetti più vicini Proprio ai mille giorni che non escono Quasi sicuramente sarà appunto uno di questi due Quali preferireste? Acivat oppure il piccone? Fatemelo sapere sotto con un commento Poi ragazzi il pack di Aurelia Che è questo qui Qua potete vedere i suoi vari nomi Di come potrebbe poi essere chiamato Dovrebbe essere prossimo all'uscita nello shop Dovrebbe uscire in questi giorni O magari all'inizio della prossima season Ha avuto una modifica Perché doveva essere leggendario Cioè doveva essere un pack leggendario O comunque una skin leggendaria Ma a quanto pare è stata modificata ad epica Quindi sarà ragazzi una skin epica Meglio perché ovviamente costerà di meno Peggio per lei perché chiaramente perde un po' di Di importanza come vi posso dire Comunque questo qui ragazzi al mille per mille Avrà anche lo spas Quasi sicuramente Mi sicuro c'ha l'arco rompiscatole Che è quello puzzolente Ok l'abbiamo intato parecchio Ha editato lui Cattivissimo ci è venuto No non aveva lo spas Quindi mi sapeva lo spas Se non sarebbe preso ancora nessuno Non sarebbe male se non se lo fosse preso ancora nessuno Perché me lo vengo a prendere io Ovviamente per quanto riguarda lo spas Parlo dell'hamburgerone qui Che se lo uccidi ti dà lo spas Sempre se c'è ancora eh Ok ragazzi Probabilmente non c'è Perché vedo tutto abbastanza distrutto Quindi no Già ci hanno fightato purtroppo E io per 5 di vita il medikit Me lo faccio Ora ragazzi guardate attentamente Queste due schermate di caricamento Sono molto importanti Perché entrambe ci danno degli indizi Molto 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 importanti Allora iniziamo a parlare da quella Meno importante Ovvero quella dove ci sono Sti dinosauri che pushano sostanzialmente Perché da questa schermata Si notano delle nuove skin Tra cui questa ragazza qui Che è stata trovata anche ovviamente Nei file di gioco E quindi è confermata Che sarà insomma una skin Che uscirà nel negozio prossimamente Ma poi regà Nell'altra schermata Oltre tutta un'altra serie di cose Di cui magari non ho neanche parlato In questi giorni Perché regà Sicuramente avrete sentito parlare Delle moto volanti Ieri ci abbiamo fatto una live addirittura Un'altra serie di indizi Che ci sono state Nelle ultime Schermate di caricamento Che sono uscite Dove per ente si parla del futuro Degli alieni Dei robot Insomma si parla di un sacco di cose Dell'ambientazione futuristica Della prossima stagione Di tutte queste cose ragazzi Ne parlerò sicuramente meglio Nel video di domani Quindi anche per quello Vi dico di seguire per bene Il video di domani Però quest'oggi Mi sto soffermando sulle skin E su quello che potrebbe essere L'evento finale Col conto alla rovescia Quindi Tornando a parlare delle skin Tramite quest'altra schermata Di caricamento Quindi quella sotto Si può notare innanzitutto Thor Questa qui ragazzi È palesemente La sagoma del Thor Del film Ragnarok E anche la sagoma di Loki Si può vedere Ora però Qual è il discorso? Che la maggior parte Se non quasi tutti i personaggi Che fino ad ora Della Marvel Sono apparsi su Su Fortnite Sono tutti i personaggi Ripresi dal mondo Marvel Dei fumetti Non dei film Mentre il Thor Ragnarok È un film Ed è stato ripreso appunto Con questa sagoma qui Con i capelli corti Eccetera eccetera Staremo a vedere È possibile che comunque Fortnite inizi a collaborare Anche con la sezione Proprio film Della Marvel Non mi sorprenderebbe Anche perché come sapete L'evento iniziale di questa stagione È stato anche creato proprio In collaborazione Con i fratelli russo Quindi insomma Sempre della Marvel Stiamo parlando Quindi vediamo un attimino Sarebbe molto interessante Se rientrassero in gioco Tutte queste Tutti questi personaggi Marvel Che sono stati lasciati Un po' in ombra Perché comunque Ragnarok Non è che abbia avuto Un ruolo fondamentale Nella stagione della Marvel Non è stato neanche un boss Insomma Addirittura era la prima skin Del pass Non era nemmeno la skin finale O la skin del livello 100 Insomma è stato messo Un po' da parte Quindi ecco Vedremo un attimino Per quanto riguarda Loki Invece raga Mi sembra proprio La sagoma di quella dei fumetti Non mi sembra assolutamente Quella dei film Quindi lui in realtà Tornerebbe tutto Con il discorso Loki Raga tornerebbe tutto Ma comunque Andiamo avanti Sono stati trovati 10 pack criptati Che ancora non si sa Cosa possono essere E insomma Sono parecchi 10 criptati Di cose che devono ancora succedere E cose che comunque accadranno Ed è per questo Che io voglio iniziare Un attimino a parlare Dell'evento finale Ora Vi dico la verità E ne ho già parlato Nel video Non nel video ieri Nella live di ieri Ormai ho perso le speranze Per questa stagione Cioè io voglio Capire perché Fortnite Abbia annunciato Prima di questa season Che era quella più ambiziosa Di sempre Perché io di ambizioso Ci ho visto ben poco Se non gli animali Dinosauri Ma regà Non è che fossero Chissà quanto ambiziosi Però effettivamente Cioè qualcosa Con la guglia Deve succedere Cioè regà Quel poraccio Della fondazione Sta lì Da tre mesi E non è successo Nulla Cioè non è successo Assolutamente nulla E quello sta lì Da tre mesi Va bene Ok Quindi qualcosa deve succedere Mi rifiuto Mi rifiuto Di pensare Che Fortnite Epic Games Faccia partire La prossima nuova stagione Senza spiegare nulla E togliendo la guglia Detto questo Continuiamo a parlare Era un po' una premessa Per il prossimo discorso C'è stato un aereo schiantato Che hanno aggiunto in mappa E questo qui Tra l'altro lo devo ancora Andare a visitare Ecco nel video di oggi Potevamo andarlo a visitare Ma vabbè Magari lo faccio nel video di domani E questo elicottero qui Ragazzi Come simbolo Diciamo Come simbolo Su di esso C'era il simbolo Dell'ordine immaginario Non è la prima volta Che vediamo degli indizi Su questo ordine immaginario Vedremo un attimino Che cosa ci intererà Con tutto il resto della storia Ma adesso Parliamo della cosa più importante Del conto alla rovescia In mappa È già apparso Questo televisore Questa tv Che servirà per alcune sfide Ma sembra che servirà Anche per tenere Un conto alla rovescia Perché sì ragazzi Partirà un conto alla rovescia Ora io non ho mai visto Un conto alla rovescia Per la nuova season Per una prossima nuova season I conti alla rovescia Solitamente servono Per gli eventi E soprattutto Per gli eventi finali Io ribadisco ragazzi All'inizio di questa season C'è stato un evento Iniziale Che pretendeva Per forza Una spiegazione Durante la stagione Spiegazione che non c'è stata Durante questa stagione E quindi A maggior ragione Dovrebbe confermare Ancora di più L'evento finale Perché io ribadisco Mi rifiuto Di pensare Che Epic Games Adesso di punto in bianco Inizi la prossima nuova stagione Tolga di mezzo la guglia E non finisca Di raccontare la storia Che c'è dietro la fondazione Il fondatore E tutto quello che è successo Quindi ragazzi Detto questo Fatemi sapere Che cosa ne pensate Sotto nei commenti La nuova stagione Dovrebbe iniziare Poi l'8 giugno Quindi credo che Il fine settimana Prima di questa data 6 giugno Dovrebbe poter accadere qualcosa Magari anche il 5 giugno Non lo so regà So sicuro però regà Che nei prossimi giorni Ci saranno dei teaser E ne parleremo meglio Anche nel video di domani Infatti ragazzi Nel video di domani Ci andremo a concentrare Sulla prossima nuova stagione Quindi alieni Tema futuristico Eccetera eccetera E anche dei teaser Perché dovrebbero a giorno Iniziare ad uscire Una serie di teaser Abbiamo già qualche leak Ora sicuramente Già avrete trovato E troverete delle notizie Riguardanti queste cose In giro sia su youtube Che Nelle varie pagine Canali telegram A proposito Io come sempre vi ricordo Che le mie informazioni Le prendo sul canale telegram Di fortnite news Però ecco Dato che comunque Io vi voglio sempre aggiornare Su tutto E voglio parlare con voi di tutto Ci farò comunque un video Anche se in ritardo Proprio domani Quindi ragazzi Se vi fa piacere Sentirmi parlare Sentirmi discutere di queste cose Ti aspetto domani Alla solita ora Qui sul mio canale Ora direi che è arrivato Il momento Di portarci a casa Questa vittoria reale Anche se Non sarà Particolarmente facile Comunque ragazzi Sono questi Questi cartelloni Che ribadisco Ne andremo a parlare Nel video di domani Perché sono Molto 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 Importanti Ecco E' tappezzata Sabbia sudata E' tappezzata Comunque ragazzi Endgame Siamo in sette Vabbè Sembra arena Peggio di arena Anzi Peggio 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 di arena Proviamo a buttare giù sta Ma scendi C'hai paura C'hai paura Chico eh C'hai paura C'hai avuto paura Talmente tanta paura Che ti sei suicidato Da solo Praticamente Va bene Mi vado a prendere Sicuramente questo Quest'altro Non me lo prendo Quello Leggendario Non me lo piglio Però mi prendo Sicuramente lo Scildone Perché Che me lo devo fare Regà Ovviamente Vorrei riprendermi Però anche i medikit Sinceramente Vorrei riprendermi Anche i medikit Perché se no Ho uno slot vuoto E non mi sembra Una cosa buona Anzi regà L'ho recuperati E vi dirò di più Per 6 di vita Mi rimetto il medikit Quello lì sta continuando A provare a spararmi Con l'arco Granate onda d'urto Fortunatamente Fino adesso Non mi ha preso E quindi Mi speriamo bene E niente Adesso mi ha preso Vabbè anzi Mi ha fatto un favore Ragazzi Oh no Stanno tutti camperati Ma dai Ma di che stiamo parlando Ma di che stiamo parlando Ma niente Cioè lo sapete Qual è il problema È che se tipo Io adesso pushassi uno Gli altri mi sparerebbero Cioè Ovviamente Andrebbero a prendere La situazione Andrebbero ad approfittarsene Per la situazione E mi pusherebbero A loro volta Quindi io tipo Dovrei chiudermi Aia Aia Me ne vado Me ne vado Signorino Me ne vado Va bene Va bene Mi ha fatto malissimo Mi ha rifatto malissimo Ce ne scattiamo di nuovo Oh e basta E basta Ma poi la cosa bella Regà È che È pure forte sta gente Cioè Se la gioca È aggressiva Però poi Loro Camperano Guarda Guarda Ora mi sta pushando Ora nessuno gli spara Siamo in 5 Una safe del genere Però nessuno gli spara Lui può farsi mezza mappa Come vuole E nessuno gli spara E va bene Penso che siamo in modo Oh qualcuno gli spari Per favore Qualcuno che gli spari Please No eh Non c'è nessuno Che vuole sparargli Vabbè Mi provo a fare il medikit Anche perché con 14 di vita Altrimenti è un problema Siamo tutti qui Siamo tutti qui In 5 Una safe del genere Oh mio dio Ok Ok ragazzi La situazione Non sta decisamente migliorando Anzi Sta pian pianino Peggiorando C'è qualcuno Che si sta curando qui Non so se è proprio In questo cubotto qui No infatti no Va bene Però siamo ancora 5 Siamo ancora in 5 Va bene Ok ragazzi Sto continuando un attimino A camperarmela A farmi Gli affarucci miei Ora no Però basta Mi sono rotto un pochettino Le scatole Il problema è che Hanno tutti le impulsi Tranne me Probabilmente Sento Tutti si muovono Tramite le impulsi Ma io giustamente No perché le ho finite E non ho l'arco Perché non l'ho trovato Dove saranno Mamma mia Mamma mia Che brutto L'endgame Così in pubblica Non si può veramente Vedere Ok Qualcun altro Prova a fare cose Continuano con l'arco A onda d'urto Che cosa Vorranno fare Tanto ste strutture Sono le mie Ancora Qualcuno si sta curando Ma siamo ancora 5 La cosa bella è questa Ok Finalmente Sino 1 Ah bene Hanno fatto proprio Gli sciagalli Con quello che ho ucciso io Benissimo Cioè tutti Ci sono proprio fiondati Regà Pazzesco Pazzesco Regà Va bene Ok La tempesta Ne ha inghiottito Un altro Ok Se sono uccisi Gli altri Ce l'ho tipo qui Dove sei? Siamo rimasti in due 1v1 49 Let's go Ce la siamo portata A casa Signori E chi se lo sarebbe Mai immaginato Tutti che facevano Ste cose Con le impulsi E poi arrivo io Bello tranquillo Che me la porto a casa GG ragazzuoli Detto questo raga Ovviamente Fatemi sapere la vostra Sotto con un commento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'este fatto Codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nel negozio oggetti Fortinet Per supportarmi Lasciando un bel mi piace Soprattutto per supportare Le GG News Per me è tutto Ci troviamo domani Con un altro episodio Dele GG News Per andare a parlare Della prossima stagione Degli alieni Del futuro Eccetera eccetera Per me è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo episodio Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao